Corvallis, una tra le prime aziende di information technology in Italia, punta all'innovazione e allo sviluppo. Sulla base delle consolidate competenze maturate negli anni in ambito bancario, Corvallis ha creato una partnership con la società Planus, al fine di fornire a chi è deputato all'interno della banca a prendere decisioni strategiche e operative, uno strumento di analisi basato su tutte quelle informazioni utili che sono presenti nei flussi di ritorno di Banca d'Italia e nelle segnalazioni inviate alla stessa. Oggi acquisire ed applicare la conoscenza diventa sempre più fondamentale per la competitività delle organizzazioni. La banca ha la necessità di reperire in forma semplice e veloce le informazioni, disporre di un benchmark di confronto con il mercato, individuare i propri competitor, prendere decisioni efficaci supportate da dati oggettivi. Planus Mainstream è la soluzione in grado di soddisfare tutte queste esigenze. Planus non è un semplice strumento di reporting, è un vero strumento di business intelligence con le seguenti caratteristiche. Facilità d'uso. In Planus la varietà dei fenomeni analizzati è inglobata in pochissimi schemi intuitivi e ripetitivi di navigazione. Velocità. La base dati Planus è tecnologicamente avanzata ed ottimizzata per rispondere in tempo reale a qualsiasi tipo di interrogazione. Integrazione. Planus rende omogenei i flussi informativi della banca con quelli del sistema e li arricchisce con informazioni presenti in altre fonti. Storicizzazione. Planus conserva le informazioni in una base dati normalizzata e costantemente aggiornata al fine di poterle consultare e confrontare su base temporale. Analisi di tendenza. Planus consente di valutare l'evoluzione dei fenomeni analizzati nel tempo. Subject Orientation. Planus mette a disposizione dell'utente una ricca suite di reportistica per soddisfare le esigenze dei vari fruitori, dai manager agli addetti di filiale. indipendenza dal reparto IT. L'utilizzo del servizio Planus non richiede l'installazione di nessun tipo di software, né l'acquisto di hardware o l'intervento di personale IT. L'utente è autonomo nella creazione di report personalizzati. Adattabilità nel tempo. Planus mette il massimo impegno per adeguare il prodotto agli sviluppi e dai continui aggiornamenti richiesti da Banca d'Italia. Il prodotto è in costante evoluzione tecnologica e si avvale della consulenza di tecnici del MIT di Cambridge. Planus opera in assoluta sicurezza e garanzia dell'integrità dei dati. Reasoning. Planus consente l'individuazione di pattern o di modelli presenti nei dati che sfuggono all'analista per la loro complessità. È il sistema che scopre associazioni e correlazioni fra i dati e che consente di simulare scenari previsionali. L'analista, grazie a Planus, non deve sprecare tempo in ricerche o elaborazioni, ma può dedicarsi a tempo pieno al suo compito principale. L'analisi del business. La struttura modulare del prodotto Planus permette un accesso ottimizzato e mirato ai dati da analizzare, consentendo all'analista di recuperare agevolmente tutte le informazioni indispensabili per il proprio business. La banca può ottenere da Bastra 1 tutte le informazioni relative al proprio posizionamento sul mercato. Il dettaglio è la sottovoce della matrice di vigilanza. Il territorio va dal comune alla nazione e sono disponibili tutte le variabili che Banca d'Italia ha fornito nei flussi di ritorno. Planus, col proprio modulo statistiche e creditizie provinciali, permette alla banca di confrontare i dati relativi al proprio core business con quelli del sistema. Queste informazioni permettono all'istituto di capire il proprio posizionamento sul mercato per raccolta ed impieghi. Planus, nel modulo BIP, mette a disposizione, sotto forma di serie storiche, le informazioni statistiche diffuse da Banca d'Italia, consentendo sempre un confronto fra i dati della banca e il sistema. Il modulo Banche e Sportelli pubblica l'anagrafe di tutti i gruppi e banche italiani e relativa performance territoriale. Il modulo CR Statistica consente la comparazione tra i dati della banca relativi alle attività concernenti il credito con quelli del sistema creditizio italiano, comprensivo di tutti gli enti segnalanti in centrale rischi. Il modulo Tasso Decadimento consente alla banca l'analisi dei propri dati incentrati sul nuovo concetto di sofferenza rettificata, permettendo il confronto dinamico impostato sul flusso delle nuove sofferenze entrate nel periodo. Tassi FITA è l'unico modulo che consente il confronto territoriale dei tassi di interesse praticati dalla banca. Il modulo Tassi BCE confronta i dati della banca con quelli del supplemento al bollettino statistico, consentendo la gestione completa di un modello econometrico per il calcolo dello spread dei tassi armonizzati. Il modulo Tassi Decadali consente alle banche di disporre di informazioni sintetiche e tempestive sui tassi di interesse. Il modulo Pivot B1 consente all'utente di effettuare direttamente sulla base dati qualsiasi tipologia di estrazione con il layout desiderato. Permette di creare report personalizzati gestibili in Pivot Mode, di salvare modelli per riutilizzarli a piacimento e di condividere gli stessi con altri utenti. Corvallis ha coniugato la propria esperienza sulle tematiche di geomarketing con il patrimonio informativo presente in Planus, per consentire alla banca avanzate analisi territoriali. L'integrazione con i dati Istat permette un'analisi del contesto socio-economico della clientela. Con Planus puoi distinguerti ed emergere anche nel mercato più competitivo. Contatta Corvallis per saperne di più oppure visita il sito www.corvallis.it.